Musica Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima TG Flash delle ore 11, andiamo con le ultime notizie. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 14.245 nuovi casi di contagi da coronavirus su circa 103.000 tamponi processati. Dopo l'impennata degli ultimi giorni torna a scendere il tasso di positività che si attessa al 13,8% rispetto al 17,6% delle giornate precedenti. L'ultimo bollettino del Ministero della Salute riferisce di altri 347 decessi con il bilancio delle vittime che purtroppo sale da inizio pandemia, oltre i 75.000 unità. I dati di ieri vedevano 11.831 nuovi casi su 67.000 tamponi processati e 364 deceduti. I guariti del giorno sono invece 14.746. Il maggior numero di nuovi positivi si registra in Veneto con 3.419 casi, seguito dalla Lombardia a 1.709. Sono invece 619 nuovi positivi in Regione Campania, secondo l'ultimo bollettino diramato all'unità di crisi regionale in merito all'emergenza coronavirus. I tamponi effettuati sono stati 6.411 per una percentuale di incidenza che tocca il 9,65% in linea con i giorni precedenti. Il numero esiguo di tamponi risente dei giorni festivi in corso. Il bollettino segnala anche purtroppo altri 18 decessi, di cui 7 vittime nelle ultime 48 ore e 11 nei giorni precedenti, ma registrate solamente nella giornata di ieri. Sono 791 invece i guariti del giorno. Sono in report situazione ospedali in Regione, sono 98 i posti letto occupati in terapia intensiva su 656 disponibili. Dopo le ultime bufere di vento e acqua si sono riproposti problemi di infiltrazioni di acqua piovana all'interno di uno dei moduli di terapia intensiva dell'ospedale del mare, in particolare all'interno della sala monitoraggio dei pazienti e in una delle sale relax per gli operatori sanitari, che sono stati costretti ad arraggiarsi con stracci e secchi d'acqua per evitare l'allagamento dei locali. Lo spiega il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. L'ASL Napoli 1 ci ha comunicato che sono partite le contestazioni a carico della ditta che ha effettuato i lavori e le convocazioni per un sopralluogo urgente alla presenza dei tecnici per verificare i danni registrati nella struttura e permettere in campo interventi che impediscano il ripetersi di questi fenomeni che rischiano di compromettere le attività sanitarie in uno dei moduli più importanti del nosocomio partenopeo. Queste le parole del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Un gruppo organizzato di 6-7 persone ha commesso ieri un furto di un motorino ai danni di un rider nei pressi della calata di Capodichino, un episodio crudo, violento, cattivo e terribilmente senza onore, benché minimo rispetto per un uomo che stava guadagnandosi la sua giornata di lavoro e portandogli via il mezzo con cui effettua il suo servizio utile alla comunità, soprattutto in questo periodo di Covid-19, oltre che ai ristoranti, scene atroci per la violenza che emanano, un gruppo di persone incappucciate che picchia ripetutamente il povero rider che si aggrappa al mezzo disperato, alcuni cercano anche di investirlo per rubargli il motorino, una scena raccapricciante. Anche il consigliere regionale Borrelli è intervenuto sulla propria pagina social per parlare dell'evento. Abbiamo ricevuto questo video sconvolgente relativo a un'aggressione ai danni di un rider che sarebbe avvenuta poco fa a calata a Capodichino. Un gruppo di delinquenti lo aggredisce con inaudita violenza per sottrargli lo scooter con il quale sta effettuando le consegne. Lo gireremo alle forze dell'ordine per risalire agli aggressori. A rider dico di farsi avanti anche in forma anonima perché lo vogliamo aiutare, quindi c'è un obiettivo da raggiungere, ricomprare il motorino a rider derubato. Ieri sera a Napoli nei pressi di Capodichino, un obiettivo già raggiunto per fortuna in pochissime ore nella notte perché la gara di solidarietà sul web è stata così eccezionale che l'uomo che aveva avviato la campagna ha deciso di chiuderla per le troppe donazioni ricevute. Parliamo di addirittura 11.000 euro, la quota che è stata raggiunta, un segno di come si possa rispondere alla cattiveria. Attraverso la solidarietà per l'uomo di 52 anni e con due figli a carico ci sarà la possibilità di riprendere il suo lavoro senza pesare sul proprio bilancio familiare. Sono invece 62 nuovi positivi al coronavirus in provincia di Caserta, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'ASL provinciale. I tamponi effettuati sono stati 687 per una percentuale di incidenza che aumenta al 9% mentre la giornata precedente segnava il 3,9%. Si segnalano purtroppo altri 6 decessi in provincia che portano il totale da inizio pandemia a 446 unità. Dall'ultimo bollettino si segnalano anche 299 persone guarite. I comuni con maggior numero di attualmente positivi sono Aversa con 289 nuovi casi, Maddaloni con 253, Marcianise con 248 e Caserta con 236. Il Napoli vince a Cagliari per 4 a 1 e torna al successo. I azzurri in rete con Zielischi, Doppietta, Lozzano e Insigne sul rigore. Inutile il gol del momentaneo pareggio per i Sardi che porta la firma di Joao Pedro. I partenopei con questo successo salgono al quarto posto in classifica a quota 28 punti, sempre con una gara in meno e a meno 2 dalla Roma, terza. Gattuso a fine partita ha così commentato il successo dei suoi in Sardegna. Sono abbastanza soddisfatto della prestazione ma anche arrabbiato. Non si può arrivare dieci volte sotto la porta e rischiare di non segnare. Ci manca il veleno. Senza Zielischi saremmo qui a parlare di altro. Lui è un calciatore completo che danza sul pallone, glielo ho sempre detto, deve diventare determinante in ogni circostanza. Era importante vincere, dobbiamo fare però un ulteriore step mentale. Osimen ha sbagliato e pagherà. Ha anche chiesto scusa. A breve lo vedrò. Il mio maestro Marcello Lippi mi diceva sempre di cuocere nel mio brodo. Lui deve cuocere nel suo. Dagli errori si può solo imparare. Il Benevento invece cade in casa contro la capolissa Milan in una partita ricca di emozioni. A sbloccare il match ci ha pensato il solito che sì su calcio di rigore al minuto 15. Dopo un disastro in uscita a palla al piede da parte della difesa sannita. Al minuto 33 c'è stata la possibile svolta del match a causa del rosso dato a Tonali. Quindi il Milan è rimasto in dieci uomini. I rossoneri però hanno retto l'urto e all'inizio ripresa hanno trovato il gol del raddoppio con un capolavoro di Rafa e Leao. Le streghe avrebbero la possibilità anche di riaprire il match con Caprari dal dischetto al minuto 61. Ma il fantasista ex Parma sbaglia malamente. La squadra di Inzaghi nel finale sbatte su un super donnarumma che para tutto. E il tecnico delle streghe ha così commentato il match contro il diavolo. Abbiamo fatto una prestazione straordinaria. Se c'è rammarico è perché stiamo facendo delle cose egregie. I ragazzi volevano fare il risultato contro una grandissima squadra. Il Milan è difficile da affrontare anche senza uomini chiave. Sono squadra, ti fanno male nell'uno contro uno. Ed hanno in porta il miglior portiere d'Europa. Mila Juve mercoledì ti ferò per i rossoneri come ho sempre fatto. Concludiamo sempre con il calcio perché la Salernitana è impegnata quest'oggi. In casa la Rechi contro il Bordenone alle ore 18. I Granata cercano un successo per proseguire la marcia interrotta qualche giorno fa a causa della sconfitta in casa del Monza. Castori dovrebbe confermare il duo d'attacco ma passare alla difesa 3. Ecco infatti la probabile formazione della squadra campana. Bellet in porta, Bodgan, Aja e Gionber in difesa. Cupitz di tacchio, Schiavone e Anderson con Casasola a centrocampo. Mentre davanti ci saranno i soliti Tutino e Diuric per formare il duo temibile d'attacco. Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto. Appuntamento sempre tra qualche ora sui nostri canali. Un caloroso arrivederci. Grazie a tutti.